Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo all'approvazione da parte della giunta regionale del disegno di legge relativo alle variazioni territoriali dei comuni di Gela, Piazza Almerina e Niscemi che passano dalla provincia di Caltanissetta e dalla provincia di Enna alla città metropolitana di Catania. I comuni, lo ricordiamo, avevano deliberato il trasferimento da un ex provincia all'altra tramite il referendum previsto nella legge di creazione dei liberi consorsi. Soddisfazione è stata manifestata dal Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. Franza, possiamo dire in definitiva che manca veramente poco al traguardo? Diciamo che siamo ad un passo letteralmente dal traguardo. Ieri il governo regionale ha finalmente deliberato il DDL di variazioni territoriali per i comuni di Gela, Piazza Almerina e Niscemi e quindi quest'ulteriore passo è stato fatto. Siamo felici per questo. Dobbiamo soltanto attendere adesso l'approvazione del Parlamento regionale, ma si tratta di una presa d'atto in sostanza nulla di più. E quando Gela poi materialmente entrerà a far parte della città metropolitana di Catania? Nel momento in cui verrà pubblicata in gazzetta ufficiale e quindi appunto manca il passaggio del Parlamento regionale. Speriamo che questo passaggio si risolva in pochissime settimane. Fatto questo possiamo dire che siamo con Catania ma finalmente potremo dopo undici anni di duro lavoro festeggiare. La cosa più importante è che potremo finalmente programmare il futuro di queste comunità con un'area più ricca e con un'area che avrà più risorse a disposizione. Questa è la vera importanza e da un punto di vista economico il cambiamento che avranno questi territori. Ed è una battaglia vinta da tutti, da Gela in primis, che lo ha dimostrato con il referendum e poi anche con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Da undici anni seguiamo questo progetto. Abbiamo iniziato con la provincia di Gela, il libero consorzio di Gela e il libero consorzio di Catania per approdare poi la città metropolitana di Catania. Devo dire che senza il supporto di tutti i cittadini gelesi, da soli il Comitato per lo sviluppo della legge gelese e da soli insieme ai Comitati di Piazza Almina e Niscemi non avrebbe mai potuto centrare questo obiettivo. Se questo obiettivo si è centrato è perché 18.000 gelesi hanno sottoscritto prima la proposta di legge popolare. 24.000 si sono regati immaterialmente alle urne per votare il referendum. Abbiamo riscontrato il consenso dell'intera città. Questa battaglia si è vinta perché c'era il consenso di una città all'unanimità. Diversamente non sarebbe stato possibile. E' una gioia poter constatare che le promesse iniziano a concretizzarsi. La Giunta regionale ha rispettato quanto aveva annunciato. Lo dice il portavoce del Comitato Gelensis Populus, Liliana Bellardita. Siamo felicissimi come Comitato perché chiaramente seguivamo questa vicenda e ormai sembrava quasi una commedia dell'assurdo. Finalmente è stato esitato il DDL da parte della Giunta ma ancora la parola fine sarà messa dall'ARS. Perché ricordiamo che il DDL dovrà approdare all'Assemblea regionale per essere esitato, anche se si tratta di una semplice presa d'atto. Ma cosa succederà in merito proprio alla migrazione dalla Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta alla città metropolitana di Catania? Consentirà ai nostri rappresentanti di usufruire tanto dell'elettorato attivo quanto dell'elettorato passivo nell'ambito delle elezioni che entro settembre, entro la prima metà di settembre, saranno indette per dotare questi enti intermedi e in particolare per quello che a noi riguarda l'area metropolitana di Catania dell'organigramma interno per cui i nostri rappresentanti, compreso il sindaco di Gela, potranno aspirare anche ad un'eventuale candidatura. Che ruolo avrà nella città metropolitana di Catania la città di Gela? Gela è una città che a livello di popolazione sarebbe tra le più grosse delle città che approdano all'interno dell'area metropolitana. Il voto ponderato ci consentirà chiaramente di avere il ruolo che Gela merita di avere. Però molto ne sta dalla capacità e dalla caparbietà, dalla competenza e dalla professionalità della politica di poter giocare questo ruolo e giocarselo fino in fondo con chiaramente i risultati che una città come Gela si merita a tutti. Cambiamo argomento e adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria. Vi riferiamo di un blitz eseguito dalla polizia all'interno di una abitazione estiva di Contrada Manfria a Gela trasformata in un laboratorio per la coltivazione e produzione di piante di marihuana. Arrestato un ragazzo di 27 anni. Aveva trasformato l'abitazione estiva dei suoi genitori in Contrada Manfria a Gela in un vero e proprio bazar dello stupefacente. È stato un anonimo interlocutore a riferire alla polizia di sospetti movimenti in zona. La perquisizione viciliare ha dato i suoi frutti. Gli agenti della sezione investigativa del locale commissariato, diretto da Francesco Marino e quadruvati da Massimiliano Santoro, hanno rinvenuto una coltivazione e produzione di piante di marihuana destinata allo spaccio. Arrestato Emilio Gianrizzo, 27 anni, elettricista, con precedenti specifici. Giunti sul posto, i poliziotti hanno percepito un forte odore proveniente dall'interno, notando che l'abitazione era assicurata da chiusure ferrate che ne impedivano il facile accesso. Entrati, gli agenti hanno trovato un laboratorio dotato di tutte le attrezzature necessarie alla coltivazione e alla produzione di piante di marihuana con la presenza sul posto di piante di canapa indiana del tipo cannabis, di stupefacente e dello stesso tipo, già essiccato, e di tutto il materiale necessario al suo spaccio. Circa 400 grammi. Rivenuto inoltre un marchigegno elettrico alimentato anche da alternatore di corrente a batterie nell'eventualità di un improvviso distacco di fornitura di energia da parte dell'Enel. In perfetto stato di funzionamento, è composto da un elimina insetti, da una lampada a raggi, da irrigatori d'acqua. Tutto era collegato alle prese elettriche e ad appositi termostati e timer. Per mantenere costante la temperatura per la crescita dello stupefacente, c'erano anche due ventilatori ad aria calda e fredda, dotati di appositi timer per l'attivazione ad orari alternati. Emilio Gianrizzo è stato tradotto in carcere a disposizione del sostituto procuratore Antonio D'Antona e si indaga per individuare eventuali complici, la piazza di spaccio destinataria dello stupefacente e comprendere da quanto tempo fosse operativo il laboratorio Fai da te. Sentiamo il dirigente del locale commissariato di polizia, Francesco Marino. Voglio sottolineare la bontà dell'arresto che la squadra di PG, coordinata dal dottore Santoro, che è responsabile su direttive del sottoscritto, ha raggiunto il risultato di individuare nella tranquilla zona di Manfre un vero e proprio laboratorio per la produzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti, individuando appunto in un'abitazione molto fuori mano e grazie, tengo a sottolinearlo, alla collaborazione dei cittadini perché erano stati segnalati dei movimenti strani in questa abitazione, perciò la collaborazione con le forze dell'ordine è sempre positiva e propositiva e siamo riusciti appunto in questa abitazione a trovare una vera e propria apparecchiatura di strumentazione intesa a favorire la coltivazione nascosta dentro questo edificio molto isolato per l'utile controllo di polizia di ben circa mezzo chilo di marijuana, con un belancino di precisione pronto per sistemare le dosi a casa di un insospettabile elettricista con qualche precedente specifico di qualche anno fa e le indagini continueranno per individuare la piazza di spaccio a cui questa droga era destinata e se ci sono eventuali complici. Due auto a fuoco la scorsa notte in via Diomede a Gela, si tratta di una Mercedes classe A e di una Fiat Grande Punto, le due macchine sono di proprietà di altrettanti coniugi, indagini sono state avviate dalla polizia. Sabato 9 aprile alle 9.30 presso la sala riunioni del Museo Diocesano di Piazza del Medina il Vescovo Rosario Gisana incontrerà nell'annuale conferenza diocesana della servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica il gruppo di lavoro diocesano assieme ai referenti vicariali e parrocchiali si farà il punto sulla giornata nazionale di sensibilizzazione e promozione alla firma dell'8x1000 per la prima volta all'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela, diretto da Luciano Fiorella è stato eseguito un intervento specialistico in prostatectomia radicale ad eseguirlo su tre pazienti di età compresa tra i 50 e i 60 anni è stata l'equipe medica formata da Nuccio Condorelli dirigente dell'unità operativa di urologia qualivato da Danilo Bottero esperto urologo di incontinenza urinaria maschile proveniente dall'Istituto Europeo di Oncologia presenti anche Carlo Gitana, Franco Eragi, Nino Branchina e Claudia Calì i tre pazienti finalmente hanno detto addio alle perdite di urina i tre pazienti che hanno subito l'intervento chirurgico non avranno più bisogno del pannolone? sì, e proprio questo era il nostro obiettivo crediamo di esserci riusciti perché soffriamo di incontinenza l'incontinenza sappiamo tutti cos'è è una perdita involontaria di urina ma come si è intervenuti? con una piccola incisione nel perineo che è la zona proprio sotto lo scroto mettendo una bendarella dall'inglese si chiama sling e questa bendarella non fa altro che sollevare l'uretra pertanto spingendola non fa perdere pipì ed è il primo intervento che viene eseguito qui al Vittorio Emanuela? sì, a Gela credo che sia proprio in assoluto il primo intervento sono pazienti che sono venuti da un'altra provincia quindi noi cerchiamo in ogni caso di invertire quel trend che prima era in negativo di importazione di pazienti ma l'incontinenza riguarda soltanto una fascia alta oppure anche i ragazzi possono soffrire? purtroppo l'incontinenza può colpire tutte le fasce di età nel caso specifico la incontinenza di questi pazienti era dovuta ad un intervento precedentemente eseguito da me stesso quando ero a Catania in pazienti che hanno avuto un tumore alla prostata soffrono più donne o uomini? essendo una patologia sia maschile che femminile sono uomini e donne dipende dall'età ovviamente ma in questo caso ripeto essendo uomini perché colpiti da tumore alla prostata in questo caso abbiamo risolto un grosso problema molto fastidioso e imbarazzante per la qualità di vita del paziente a degli uomini ovviamente e alla fine degli interventi i pazienti cosa le hanno detto e cosa vi hanno detto? certamente loro l'indomani erano già a casa nella loro città sono molto felici li ho sentiti stamattina e chiaramente hanno risolto questo annoso problema che si portavano da diversi anni è previsto per sabato 9 aprile alle 18 al porto rifugio di Gela l'evento Shopisci promosso dalla associazione dei pescatori del porto rifugio di Gela e dalla associazione Slow Food Niscemi Terre del Maroglio è prevista la degustazione di piatti tipici del mare gelese ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità eccoci in seconda parte del telegiornale un book fotografico per raccontare vent'anni di musica dell'associazione culturale Giuseppe Verdi presieduta da Salvatore Domicoli l'iniziativa si terrà domani alle 18.30 nella casa del volontariato di via Ossidiana prevista anche una esibizione musicale un compleanno speciale per uno studente della quinta F del liceo scientifico Alessandro Volta Giacomo Bosco che raggiunta la maggiore età con un gesto di grande altruismo ha voluto donare il sangue un gesto apprezzato dall'Avis frutto della campagna di sensibilizzazione portata avanti in questi mesi nelle scuole superiori della città che ha così voluto festeggiare questo importante traguardo raggiunto da Giacomo con una festa tra i banchi di scuola regalandogli una torta e uno zainetto era già da diversi anni che riflettevo su questa opportunità che ci viene data quella di donare il nostro sangue e avevo deciso che non appena essi compiuto questi 18 anni avrei donato immediatamente questo perché specialmente qui a Caltanissetta abbiamo un grande bisogno di sangue per l'alta presenza anche di talassemici di persone malate di talassemia per questo sentivo proprio il bisogno di compiere questo dovere perché alla fine è un dovere cioè dovremmo donare tutti ovviamente quelli che possiamo perché non tutti per chi per un motivo per un altro possiamo però quelli che possono dovrebbero donare tutti proprio perché c'è un grande bisogno può salvare la vita anche a tante persone un piccolo gesto è il regalo più bello che può fare grande la vita questo è il messaggio che il presidente dell'Avis di Caltanissetta Gaetano Gianmusso accompagnato per l'occasione dai consiglieri Donatella Maire e Giuseppe Pernaci ha voluto ancora una volta lanciare i ragazzi del liceo scientifico un'associazione che continua a crescere che ad oggi conta circa 250 donatori tra cui 20 studenti del liceo Volta abbiamo continuato questo curriculum della donazione del sangue veramente è stato molto molto positivo per quanto riguarda i ragazzi degli istituti ieri dopo il terzo giorno che ha fatto il compleanno ha fatto la prima donazione questo è veramente un gesto molto simbolico per quanto riguarda le donazioni del sangue noi ringraziamo tutti e continueremo con questo progetto sicuramente un gelese nel cast del film Dalida prossimamente sul grande schermo si tratta di Cristian Di Vita che vediamo nella foto artista impegnato più volte in musical e Kermesse Canore Cristian interpreta uno dei quattro coristi che nel 1967 si esibirono assieme a Dalida e Luigi Tenco sul palco del festival di Sanremo con la canzone Ciao, amore, ciao il gelese è stato scelto dalla produzione superando le selezioni tra centinaia di partecipanti per prendere parte alle riprese del film una coproduzione italiana belga e francese dedicato alla cantante morta suicida nel 1987 un'esperienza magica ed unica ha commentato Cristian Di Vita oltre che di crescita siamo stati accolti benissimo una doppia emozione perché ho avuto l'onore di lavorare con dei professionisti e di cantare seppur per un film sul palco di Sanremo e adesso apriamo la pagina dello sport il calcio manca pochissimo al Gela per blindare alla Serie D tra tre giorni si gioca a Paceco contro il Dattilo Noir il portiere biancazzurro Daniele Pandolfo sottolinea vogliamo già festeggiare domenica prossima Pandolfo la Serie D è lì a pochi metri mancano soltanto dei punti adesso tocca soltanto a voi agguantarla, conquistarla perché poi sostanzialmente ve lo state meritando eh sì come hai detto tu ce lo stiamo meritando è stato un anno è stato un anno di lavoro di sacrifici da parte di tutti da parte della società in primis e poi dalla squadra dell'allenatore e un po' di tutti della città anche stessa che in questi momenti importanti in queste situazioni importanti anche domenica con la Castelbonese c'è una città intera a sostenerci e domenica abbiamo questa partita difficile a Dattilo contro il Dattilo non sarà facile e noi proveremo a chiuderla definitivamente già da domenica anche perché vogliamo avere una settimana più rilassata Siete oramai considerati un vero e proprio rullo compressore seguitori di seguito gol e quantità industriale abbiamo dimostrato che siamo una squadra che meridiamo di stare là davanti rispetto a tutte le altre siamo stati all'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà poi da dicembre a questa parte siamo stati veramente devastanti sia in fase offensiva che in fase difensiva anche perché io metto il giugno di ritorno abbiamo preso solo sei gol e ne abbiamo fatti nelle ultime sei diciannove quindi non c'è nulla da aggiungere e per te nel caso in cui così come ci auguriamo dovessi arrivare la promozione sarebbe la seconda consecutiva dopo quella dell'anno scorso eh sì sarebbe sarebbe fantastico anche perché alla fine tutti scongiuri del caso però siamo lì la vogliamo vincere voglio voglio conquistare ancora un'altra promozione col Gera e poi poi si vedrà dato importante significativo e l'apporto dei tifosi che non vi è mai mancato sì i tifosi sono fantastici qua è una città che ama il calcio che sostiene la propria città la propria maglia in trasferta è come se siamo in casa ci hanno sempre dato questo supporto in più che che alla fine dà sempre qualcosa in più a noi giocatori che ci dà qualcosa di dare in più in campo dobbiamo riconoscere i meriti anche alla San Cataldino che non ha mai mollato di un solo millimetro la San Cataldese è stata brava a rimanere là davanti sono stati bravi però noi siamo stati più bravi siamo in conclusione c'è la pagina dello spettacolo e la macchinazione che ha ucciso Pasolini il film in programmazione al Cineteatro l'antitolo di Bacchitella Gela sono tre gli orari 17.30 19.30 e 21.30 e sabato 9 aprile al Teatro Comunale Eschilo alle 17.30 e alle 21.30 Roberto Ciufoli Gaia De Laurentiis e Diego Ruiz porteranno in scena ti amo o qualcosa del genere il Borteghino lo ricordiamo è aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 edizioni